ciao questo è un video in collaborazione con la mia sister un bacione tesoro è il primo direi della sì primo video in collaborazione con lei sto parlando di roxy 13 g ballocchi e profumi vi lascio comunque tutti i riferimenti qua sotto e anche lei ha un canale è una pagina facebook ha un account instagram insomma la trovate ovunque vi lascio quindi tutto qua sotto e ha deciso di fare i 10 prodotti bio low cost più utilizzati preferiti del periodo ce ne sono tantissimi prodotti bio low cost sotto i 10 euro cioè io ne ho cercati ne ho trovati veramente tanti che ho io ne ho fatto una selezione quindi 5 skin care e 5 makeup partiamo dallo skin care allora primo prodotto è un prodotto recente ed è un bagno schiuma un bagno schiuma di una marca che non conoscevo che da e bio happy e cosa ho scoperto ho scoperto che la produce gala srl giusto sì che come sapete produce dell'idea e bionova quindi c'è una nuova entrata un annuente che appunto la bio happy che mi sembra che abbia proprio un sito comunque natural cosmetics questo è un prodotto certificato l'ho acquistato stimala scuola posta settimana lunedì mi sembra l'ho già utilizzato ed è un show shower gel ce ne sono tantissimi di vari gusti profumazioni io ho scelto il fruit cocktail quindi un cocktail di frutta e è molto molto buono è un è un tutto schiuma comunque molto valido e comunque è lo cost perché comunque a un prezzo in vero e 5 euro e costa 3 euro e 99 e sono 200 ml a un pau di 12 mesi e mi è piaciuto veramente tanto secondo prodotto skin care bio lo cost è questo prodotto questo siamo quasi 10 euro perché 9 80 qualche sito anche sugli 8 euro però in genere sui 9 euro 9 80 quindi sono proprio al limite sto parlando del latte detergente di veleda questo alla mandorla lo adoro penso che sia il secondo che utilizzo in tutta la mia vita perché mi sembra che avevo già utilizzato tanti anni fa è un appunto un latte detergente comfort c'è troppa luce però spero che si veda e mi piace davvero tanto perché è un latte ecco veramente come posso dire che ha una certa consistenza non è molto fluido è bello non troppo ricco però insomma si si sente si percepisce sulla pelle mi piace tantissimo questo è un formato abbastanza piccolino a dire il vero perché sono 75 ml quindi non tanto proprio economico perché 9 9 80 però mi piace tanto e di veleda ho provato già tanti altri prodotti anche della linea la rosa ho provato qualcosa e comunque per me è sempre un prodotto questo un prodotto promosso che appunto sto utilizzando e finirò presto terzo prodotto skin care è una crema male di cui avevo già parlato tempo fa è una marca che io ho trovato a genova da lilla qua o lilla mua che è una profumeria che ha aperto appunto genova già da un po di due punti vendita ne è rimasto solo uno che è in via sestri perché è di genova ed è la biofa nature è una marca francese certificata ecco cert ovviamente veleda lo sapete da voi che è certificata e va bene non ve lo dico però non ve l'ho detto di questa marca da so che si trova anche da altre parti diciamo nel resto d'italia ho letto da qualche parte che si trova in altri posti a genova appunto so che si trova da lilla mua lilla qua ed è l'olio di argan bio è senza parabeni senza siliconi senza petrolati ed è una che io so appunto terminato terminando non riesco a parlare è una crema mani buonissima che io vi dico la verità una volta e anche forse anche più di una volta avevo solo questa era un campagna e utilizzarla utilizzata anche per il viso mi piace tantissimo non unge le mani anche adesso che ne ho messa tanta vi faccio vedere è una crema veramente buona tra l'altro sta quasi per scadere quindi la devo ultimare perché ho visto che sono si 12 mesi si fa o è di 12 mesi quindi si la devo assolutamente terminare ma non farò fatica a terminarla e niente lascia le mani sono idratate ma non per niente per niente un te questo costa 5 90 6 90 e su internet ho trovato 5 90 ma io credo da lì la puoli la mua di averlo pagato 6 e 90 comunque siamo sempre ed è un bel siamo sempre sotto i 10 euro ed è comunque un bel una bella confezione da 150 ml e questa marca fa anche altri prodotti crema corpo e qualche cos'altro comunque oltre all'argan olio di argan bio c'è anche l'olio di ciao l'aloe vera bio e emolliente vabbè sì e appunto ecco c'è due certificazioni ecco certe e poi bio cosmetic questa quarto non si chiude ci vuole un po per chiudere il tappo quarto prodotto skin care è questa crema che mi ha rubato il cuore la sto utilizzando tutti i giorni quindi ho messo da parte tutte le altre che utilizzavo no vabbè sì più o meno sì ed è questa è una nuova linea che trovate una cosa per un'altra natural line allora di cosa si tratta questa è una marca che trovate da conland è una marca certificata ecco certe è una marca low cost perché i prodotti costano poco questa costa 7 euro e 90 guardo giù perché mi sono scritta tutti i prezzi per non dire cavolate mi faccio vedere la mia giuenda con tutto quello che mi sono scritta ok è una crema buonissima questa specifica per le pelli secche quindi per me è perfetta è al te bianco al fico e acido ialuronico quindi contiene te bianco fico e acido ialuronico è in realtà va bene anche per le pelli normali e se che c'è scritto io la adoro allora questa è una crema giorno io devo dire la verità che l'amo talmente tanto quello messa anche alla sera qualche volta comunque non contiene un spf quindi posso anche metterla la sera sapete che le creme che contengono spf 10 15 20 30 alla sera meglio non mette assolutamente meglio non metterle perché si va ad appesantire il viso la pelle del viso senza motivo perché non abbiamo bisogno di notte di protezione solare comunque vabbè tornando a noi è una crema abbastanza ricca però non grassa però comunque si sente che insomma è proprio indicata più per le pelli secche che forse normali non so su questo vabbè comunque per me è perfetta l'adoro solo 50 ml cosa c'è scritto tubetto raccolta plastica il pao forse ecco ecco sei mesi ok sei mesi quindi mi ricorderò devo scriverlo quando l'ho aperta e perfetta l'ho trovata la conad non insieme a tutti gli altri prodotti diciamo nel reparto beauty ma almeno da me l'ho trovata in uno scaffale a parte vicino alle casse c'è uno scaffale di cartone grande con questi prodotti poi ultimo prodotto è sempre una scoperta una new entry diciamo quest'estate non ve ne ho ancora parlato però ho messo la foto su instagram sono questi prodotti non certificati quindi direi l'unico prodotto che vi mostro non certificato ma che ha un buon inci in realtà controllato c'è un pallino che non va tanto bene però diciamo che potrebbe essere accettabile l'inci cosa dite sto parlando di questo prodotto allora questa marca che si chiama eufolia o eufolia come dir si voglia si trova da di più è un discount di più scritto proprio così di di più me l'ha segnalato una di voi ciao è una mia follower di genova quindi insomma presto la conoscerò non si fate più sentire va bene e grazie di avermelo appunto segnalato ho preso diversi prodotti non sono tutti con inci accettabile ad esempio visto che l'acqua micellare vabbè comunque devo un po' analizzarla meglio fatto sta che questo prodotto è un prodotto fantastico ho preso anche la crema corpo io infatti ho detto ma questo burro corpo non lo prego a parte il packaging accattivante è tutto bello colorato vabbè ora vi dico tutto allora innanzitutto cos'è è un burro corpo nutriente idratante cosa contiene è formulato con burro di babassu e olio di fico di barbaria di origine certificazione biologica ok e il 95 per cento di ingredienti è appunto è naturale sono 250 ml questo costa soltanto tata 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 2 euro e 99 sì veramente poco penso l'ho trovato online perché io lo scontrino l'avevo buttato però direi sì più o meno dovrebbe essere quello il prezzo allora io ho detto arrivata a casa ho detto ma no non lo apro è un burro ho pensato lo utilizzerò all'inverno però tant'è ero curiosa quindi l'ho aperto tanto c'era la pellicola quella protettiva sapete quella plastichina no io ho buttato non è un burro assolutamente è ora non so se la vedrete assomiglia un po avete presente la crema vagamente è la crema di cui vi parlo sempre tanto della botanica quella nel flacone la crema multiuso che io tra l'altro utilizzo sempre soprattutto nel weekend in campagna utilizzo proprio sul viso perfetta ok questa è una crema che un po le assomiglia è una crema soffice quindi non è un burro non so perché l'han chiamato burro sinceramente boh non capisco vabbè e mi piace da impazzire anche questa quindi alterno un po questa è un po la mia preferita la botanica che adoro che ha un inci anche quello sono buono accettabile e la trovate invece la botanica ma qui non ve la faccio vedere ma comunque l'avete già vista tante volte m di discount l di market ok va bene e questa mi piace tantissimo idratante stupenda e quindi è un un ottimo acquisto quindi se avete un di più vicino dalle vostre parti andateci sono già 11 minuti ok 5 makeup a qui anche qui ne avrei avuti mille vabbè partiamo dal primo sto parlando di un refill di nabla allora questi costano 7 euro e 90 uno dei miei preferiti se non il mio preferito stato appunto vi faccio vedere come arrivano proprio in questo cartoncino comunque molto pratico io vedete l'ho tenuto perché dico ma non si sa mai potrebbe potrebbe anche servirmi non so per trasportare faccio per dire magari vi serve solo quell'ombretto lo metto qui me lo porto via faccio per dire sono prodotti vegani sono prodotti cruelty free insomma lo sapete non contengono schifezza eccetera allora io ho questa palettina e quello che in assoluto mi piace di più che io adoro è questo ed è tribeca così giusto si tribeca che ci aggiungo una c ma è questo marrone scuro con riflessi dorati un po' ma io lo adoro voi direte vabbè si è il solito marrone no vi sbagliate non è il solito marrone è tutt'altro marrone impazzisco è veramente stupendo e questo appunto vi dicevo costa 7,90 questo è bright come come si dice mi viene il termine come come finish cioè esistono diciamo degli ombretti sì comunque è un bright quindi è molto luminoso e un marrone scuro appunto con riflessi dorati e bronzi se vogliamo sì stupendo e quindi consigliatissimi a questi refill dovete prenderli e spesso ci sono le offerte secondo prodotto make up bio certificato cipri avril questo è il vecchio packaging perché ha cambiato packaging forse era più carino questo vabbè comunque non importa il packaging è diverso non c'è la foglia ci sono le scritte sono diverse questo eclair come tonalità è chiaro ma non è chiarissimo quindi se siete molto chiari non va bene è certificato ecco cert tutto cancellato perché l'ho utilizzato tantissimo sono 7 grammi 12 mesi il pao e questa è la cipria non vi ho detto ancora quanto costa dunque 8 euro ecco l'ho messa qui ma è leggera vedete non è chiarissima per essere la claire ci sono altre tonalità questa comunque risulta essere la più chiara così in commercio c'è questa bene cost di bene cost vi avrei voluto parlare di tutto dai blush ai rossetti mattite eccetera eccetera ma c'è un prodotto che veramente lo trovo spettacolare è questo tra l'altro è molto economico come tutti i prodotti bene cost certificato ovviamente ed è il natural mineral powder ve ne parlo perché io questo l'ho utilizzato ogni tanto l'utilizzo mi ha sconvolto perché abbiamo fatto io la sister proprio casualmente abbiamo fatto un discorso una giornata bene costi in una erboristeria diciamo così bio profumeria come si può chiamare che si chiama la bottega naturale qui a genova e ho utilizzato proprio questo prodotto con un pennello sulla fronte di una signora un po agé poteva avere una cinquantina d'anni forse anche di più non so era nonna però mi sembrava molto giovane comunque almeno giovanile insomma per farvela breve aveva qualche sapete le linee di espressione qui sulla fronte l'ho passato e la fronte era completamente perfetta cioè sono rimasta persino allibita io eppure questo prodotto l'ho già utilizzato diverse volte io questo addirittura l'avevo comprato ad aosta quindi se non ce l'ho da tantissimo da dieci mesi to dieci undici mesi insomma quasi un anno questo è il sand ed è appunto certificato bdh che è la certificazione tedesca e ha la sua spugnettina come si chiama non mi viene e si può appunto pressare aspettate magari capelli no si può pressare il prodotto e fa un effetto ragazze che è qualcosa di stupendo avete presente quelle bambole sì una ma guardate so se vedete l'effetto proprio bambola di porcella pelle di porcellana qualcosa di stupendo vabbè e quindi questo prodotto non vi ho detto quanto costa costa esattamente 4 euro e 99 ma lo potete trovare anche sui 5 6 euro ma comunque accapparratevelo perché è stupendo poi passiamo agli ultimi due prodotti che sono due prodotti neve cosmetics allora in questa categoria inserisco le matite indistintamente occhi e labbra di neve cosmetics le matite occhi sapete io le adoro ne ho diverse ho preso queste due a caso mi piacciono a parte i tappi che dovete assolutamente neve cosmetics rifai i tappi cambiali comunque io le adoro ora questa è una caso quella verde comunque io le adoro e le labbra anche di queste ne ho tante ora ne ho prese due ho preso vino e sfilata che è uno dei miei preferiti il tappo è rotto vabbè e ragazze sono stupende tra l'altro le matite labbra durano tantissimo le potete usare come rossetti e queste costano soltanto 4 euro e 80 esatto sia matite labbra che occhi l'ultimo prodotto un prodotto sempre neve cosmetics sto parlando della due bacine è uscita un'altra nuova proprio della nuova collezione e è questa due baci che ho io è incognito quindi ha la contorno labbra che è questo questa costa 8 euro e 90 e poi il rossetto che è quello che ho sulle labbra è proprio quel colore quei colori che insomma in questo periodo vanno per la maggiore quindi questa sorta di borgogna e durano tantissimo quindi si possono utilizzare così proprio come rossetti veri propri rossetti bene termina qui quindi questo video fatemi sapere se questi prodotti li avete già provati se il video vi è piaciuto spolliciate iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritte al prossimo video ciao